Roberto, tu oggi su Repubblica racconti uno degli aspetti più sorprendenti per chi non segue direttamente le vicende del terrorismo islamico che emerge dalle ultime vicende europee, cioè il fatto che gran parte dei nuovi giadisti, di questi giovani, vengano tutti da delle esperienze di piccola, media criminalità e da delle dinamiche che sembrano provenire più dal mondo sotterraneo della delinquenza. Allora, molte volte il fondamentalismo islamico viene abbinato a un'immagine di rettitudine, di punizione severa nei confronti dei piccoli crimini, il taglio della mano, queste leggende sulle vecchie leggi coraniche, mentre invece noi abbiamo che l'avanguardia combattente del califato è composta da personaggi che in comune hanno esperienze criminali. Sì, è proprio centrale, esatto, cioè centrare il ruolo criminale dentro la prassi di ISIS e in realtà di tutto il radicalismo islamico. la parte maggiore di coloro che si sono suicidati o hanno fatto operazioni militari in Europa, sono stati dei kamikaze, avevano tutti un passato criminale, tutti. E quindi già c'è un elemento di distanza tra il giadista militante che non agisce, che magari fa una vita di moschea, ideologica, quello magari può anche essere lontano dal contesto criminale, ma, dai dati, chi ha operato militarmente in Europa, in queste ultime fasi, ha sempre avuto un passato criminale, sino alla protezione che il quartiere dà a loro stessi. Il meccanismo in genere è il contrario, cioè i quartieri dove si spacciano, i quartieri dove c'è recettazione, quando arriva un politico, cioè un classico terrorista o un militante come negli anni 70, e il quartiere lo allontanava perché attirava attenzione, polizia, pattugliamenti. In questo caso invece è stato il contrario. Il quartiere difende il militante, ma lo difende perché è membro dell'Isis o lo difende perché appartiene a un'economia criminale? In fondo, in questo dibattito che sta per fortuna arrivando anche in altri paesi, insomma, l'Italia può molto, l'Italia può molto, cioè può aiutare l'Europa a capire i percorsi innanzitutto del riciclaggio. Il Belgio è la cassaforte dell'evasione della media borghesia francese, sino agli studi che hanno fatto in Belgio stessi, cioè dimostrare che la maggior parte dei militanti del Belgio, che sono di seconda generazione, terza volta in generazione, che sono andati in Siria, non erano affatto militanti islamisti. Una frase che mi ha molto colpito di un intellettuale del Belgio, l'autore di Congo, Van Reynbroek, che dice che questi militanti sanno più di autorubate che di Corano. E quindi c'è uno studio fatto dall'Accademia belga, interessantissimo, Ricco e Le che lo fa, dove dice che in realtà questi arrivano a islamizzarsi dieci giorni prima di partire per la Siria. A volte non conoscono neanche l'arabo. Perché si va a morire? Si va a morire per diventare famosi. Si va a morire perché comunque muori. Queste persone hanno come destino o essere fatti fuori in una faida, o beccarsi un ergastolo. E allora perché non crepare facendosi saltare in aria e magari lasciando il proprio nome che gira online per un po' di giorni. Questa è una posizione che sostiene anche un altro intellettuale, Oliver Railly, che ha scritto su Le Mondo un articolo su questo, sul nihilismo delle nuove generazioni. Allora, benché sembri strano, il problema è molto meno islamico, è molto più generazionale. Da Ciudad Juarez alle paranze di Napoli, le nuove generazioni hanno un unico capitale da spendersi, quello della vita, giocarsela, crepare. E in questo senso, guardare Isis come un fenomeno soprattutto criminale, secondo me, dà una chiave interpretativa nuova. Tu parli nell'articolo dell'incapacità o l'assenza di volontà di voler vedere ciò che stava nascendo nei soborghi come Moelberg. Soborghi che poi sono, nel caso di Bruxelles, perfettamente integrati con il centro della città, tant'è che si parlava scherzando di Bruxelles per definire quella che era la situazione del centro negli ultimi anni. Sì, secondo me pagano i francesi e i belgi una strategia precisa di indifferenza, o meglio, tolleranza, una specie di liberalizzazione, non legalizzazione di crimini. Mi spiego, fin quando le bande arabe si fronteggiavano in questi quartieri, senza esagerare con spargimenti di sangue, c'era una sorta di tolleranza. E' uguale in Francia, non ci sono state mai grandi retate contro organizzazioni, contro singoli pusher, contro l'assassino, ovviamente sì, ma il contrasto non c'è mai stato neanche all'interno del dibattito politico. Per cui noi ci troviamo, qui magari posso sembrare esagerato, ma credo di non esserlo e provo a dimostrarlo, loro hanno ignorato le organizzazioni criminali, le mafie. Anzi, il Belgio non crede, si è immaginato una presenza mafiosa soltanto quando sono emersi i casi dell'Andrangheta che gli aveva comprato interi quartieri. Ma altrimenti non pensava che, per esempio, le strutture magrebine, ma anche l'Est fossero così forti. Questi non sono mafiosi, ma sono dei gangster, sono stati dei criminali, a volte piccoli, a volte medi, perché hanno fatto rapine, perché hanno un passato importante, sanno riconoscere un poliziotto borghese, sanno come muoversi. La capacità di questi kamikaze non è che è stata quella di essere addestrati da chi sa quali corpi speciali. L'addestramento che hanno avuto è che quando hanno 16 anni si confrontano con la polizia, sanno gestire una piazza di spaccio, sanno gestire armi. Il problema è che non c'è un know-how, non c'è un know-how di contrasto. In questo senso va detto che, secondo me, il fatto che l'antimafia italiana, con più esperienza, abbia sempre avuto una delega sulle questioni del terrorismo, questa cosa, secondo me, ha portato all'Italia ad avere paradossalmente una conoscenza più profonda di altro tipo di attività. Riciclaggio, i soldi con cui questi qua vengono mantenuti, documenti. Non è un caso l'arresto in Italia di quello che costruiva i documenti falsi. Ad Aversa c'era stata una stamperia trovata già anni e anni fa. Cioè, tutta una serie di percorsi criminali, tipici della criminalità organizzata, sono stati ignorati. Sono stati ignorati dalla polizia belga, sono stati ignorati dalla polizia francese. In quest'ottica, cioè, in fondo, si sfogano tra di loro. Quando esagerano, li prendiamo. E così non hanno capito un fenomeno gravissimo. E cioè che queste nuove generazioni, di fronte alla impossibilità di migliorare se stesse, se la giocano. Se la giocano e sono, diciamo, in questo senso, più simili veramente al loro coetaneo messicano o della periferia di New York. E si vede dalle foto che postano. Spessissimo loro postano su Instagram, anche quando vanno in Siria, le foto in piscina, come i gangsta rap, le foto... Ma gli mancano gli alcolici in mano, con i mitra. Esattamente in una comunicazione identica a quella delle mafie, dei loro coetanei sudamericani, in Brasile o in Messico, i loro coetanei napoletani. L'anello mancante è proprio il suicidio finale, è proprio l'operazione, diciamo, finale. Quello è mancante alle altre mafie. E ecco perché, secondo me, ragionare su questo significa ragionare su qualcosa che ci riguarda ancora più da vicino. Invece, se riflettiamo semplicemente su un'origine di tipo ideologico, morale e religioso, ragioniamo su un equivoco. Ed è quello che vuole Isi stessa, perché in realtà loro vogliono far credere di essere un'organizzazione, come dicevi prima, moralista, rigorosissima, che ammazza chi tratta droga, che ammazza chi gestisce prostituzione. In realtà sono l'avanguardia del crimine in Europa.